Buongiorno ragazzi, pomodori e bentornati incredibili su un nuovo episodio di Genshin Impact della 5.1 Ragazzi, finalmente siamo giunti nella patch di Genshin Impact 5.1 Una patch ricca di contenuti e soprattutto ricca di gnagna ragazzi Perché uno degli egg likes di questo video incredibile sarà il mio tentativo di ottenere la mammi leopardona Che mi dicono dalla regia essere rotta in maniera assurda A parte ovviamente cercando di prendere appunto la mammi leopardona Avevo in mente di fare alcune cose simpatiche in questo video di Genshin Impact incredibile Ma prima di tutto vi devo ringraziare per il supporto incredibile ai ultimi video di Genshin Impact Ragazzi, gli ultimi due shorts sono andati molto bene Sono contento che vi piace la maniera così sus e godosa con la quale vi porto Genshin Impact Ragazzi, che godo secondo voi incredibile Detto questa cosa incredibile come i nuovi let fa così con la manina Io faccio così con la mia manina nei video incredibile Allora vorrei fare alcune cose simpatiche in questo video Come vi dicevo un attimo fa Oltre a provare a prendere la mammi leopardona A provare la mammi leopardona Faremo il teatro sus nuovo La quarta edizione sus Per iniziare il video spicy Volevo provare a capire come si attiva questo boss nuovo Che è stato introdotto con questa faccia Che dovrebbe sbloccarmi i materiali E provo a portare su la leopardona Ovviamente è un boss da 40 resine Io sono curioso di capire come ci si arriva Volevo vedere com'era Perché so che è una roba meccanica Ma non l'ho mai affrontato Proviamo ad andare qua Magari ci si arriva da qua sotto E in questa introduzione Volevo anche parlare un attimo dei leak Sempre ovviamente non si guardano i leak Non si vedono i leak Creda Godoman Però per quanto riguarda la 5.2 ragazzi Perché io ingenuamente pensavo Che la 5.2 fosse la patch Dove avrebbero introdotto Mawika Il Pyro Archon Incredibile E invece ragazzi no Mawika sarà probabilmente nella 5.3 E nella 5.2 Introdurranno delle isole nuove E introdurranno due personaggi nuovi Un 5 stelle e un 4 stelle Il 5 stelle casca Dovrebbe essere il nome suo Che si vista nella prima missione Si vedrà pure nella missione Che hanno introdotto adesso Incredibile Che dovrebbe essere un main DPS A Nemo Incredibile E l'altro dovrebbe essere Un personaggio che si chiama Olorum Non mi ricordo se Olorum O Ororun Ma credo Olorum Che è quel tizio che si vede Con il cappuccio un po' in stile Emosus Con due occhietti di colore diverso Che dovrebbe essere un Sub DPS Elettro Allora Lui ha la particolarità Che tipo Dovrebbe poter volare Tipo con delle ali da pipistrello E può fare delle combo Sus con l'arco Mentre vola Però niente di straordinario È sempre un 4 stelle ragazzi A me ha fatto ridere La 5 stelle Perché alcuni di voi Mi hanno detto Hai visto quanto sembra rotta? E io effettivamente Mi sono visto questi Lick Lick A livello grafico Fa paura Perché la sua mount È una specie di scopa volante Ma meccanica Artificiale È una roba senza senso Meramente figa Che sembra velocissima Però c'è un problema amici Io ho visto Diciamo la sua elemental skill Quando lei appunto Sai su questa scopa gigante E comincia a bombardare i nemici Con dei colpi a Nemo Incredibili Si dice che lei Dovrebbe baffare le reazioni Non so se questa cosa è vera Penso sia un rumor fake Però ragazzi Il problema sapete qual è Che lei Immaginate È tipo Navia Che ha dei proiettili E ha dei proiettili In base all'elemento Che sta nel team suo Ma il problema Sapete qual è Che quando colpisce i nemici Li manda lontano Eh bimbi Questo è un problema Io ho visto i colpi che fa Sono come delle cannonate Quando colpisce dei nemici piccoli Quelli volano a destra e a sinistra Ragazzi Mi potreste dire voi Se avessi avuto l'abilità Che colpiva con un cannone E poi risucchiava pure Sarebbe stata rotta Altro che caso Avete ragione anche voi Però il fatto che lei Li allontani Io sto leggendo in giro Che in realtà la gente Sta cominciando a pensare Di schipparla Proprio perché Come dire Immaginatevela in Abyss Che tu fai tutto Per cercare di fare le cose Con il minor tempo possibile Lei ti manda i nemici lontani Non è molto utile Quindi non so quanto Possa diventare meta lei Sembra molto molto bella Però a parte questo Io però probabilmente La skipperò Perché al 99% Oggi summoniamo Per la Leopardora Poi io skippo La patch prossima E summoniamo Per il Pyro Arcon Ragazzi Perché come vi ho detto Dal primo video di Genshin Di Arcon Vanno summonati La prima volta ragazzi Tornando alle mondi di Genshin Allora io voglio iniziare Provando a eliminare Questo costrutto sus Che sembra un costrutto normale Sembra come quelli Che stanno a Sumeru Però è una versione più cattiva Ragazzi Vediamo come ce la caviamo Contro questo coso Ok Ah ok Mi dico dalla regia Che è duro Ok Cerchiamo di Capire un attimo Ok Ok Vabbè per adesso Niente di Straordinario Con gli ovelette Riusciamo a schivare Abbastanza bene I colpi sus Ok Ok forse Vabbè E' anche vero Che questo è il nemico Da 40 anni Ah eccola La cosa sus Che fa Che devo fare Ah E mo Ah ok Devo distruggere Questi cosi Ok Ah e poi muore Ah ok Va bene Però scusami Domanda da un milione Di dollari godosi Io adesso avevo Casua E come dire Sono riuscito A fare questo trick Ma Devi avere per forza Un personaggio Di Nathalad Per farlo Perché serve la mount Per salire Forse con Zhongli Riesce a rampicarti Sul pillar Forse ci sono Modi alternativi Però con Casua Riesce a farlo Questo Senza Casua E senza un personaggio Di Nathalad Devi trovare Degli escamotash Con 20 Puoi salire Con Zhongli Puoi salire Vabbè Se mettevano Che potevi Arrampicarti Con tutti Rompevano L'idea Di nemico Di Nathalad Però vabbè Dai Non è male Per essere Un costrutto sus Va bene Prima cosa Del video Fatta Poi L'Abyss Si resetta fra tre giorni E spero sia lo stesso Ragazzi In caso Vedrete un altro video Di Genshin Impact Dove affrontiamo L'Abyss Incladibra Andiamo un attimo Al teatro sus Abbiamo preso Un achievement Per aver eliminato Qualcosa Sì Ok Ci sta Allora voglio vedere Un attimo La mamma Lovardona Lei si chiama Xylonen E la voglio provare Immediatamente Con voi Per la prima volta Ragazzi Perché lei È rotta E adesso Ne voglio parlare Con voi Ragazzi Casua Sappiamo che Rimarrà uno dei personaggi Più rotti della vita È uno dei personaggi Per di tutto il gioco Ragazzi Può distruggere Le resistenze Dei nemici Col set suo Risucchia i nemici Baffa le reazioni Eccetera 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 Lo sappiamo tutti Quanto è rotto Ma lei ragazzi Può con la sua elemental skill Essere sia Un DPS A quanto pare Notevole Ma io non l'ho mai provato Ragazzi Ma dovrebbe fare Dei danni importanti Sia la sua abilità E appunto Il fatto che lei Ti mette una specie Di cerchietto attorno Se tu con qualsiasi personaggio Questo cerchietto Lo metti vicino a un nemico Automaticamente La resistenza Di quell'elemento A quel nemico Se ne va Incredibile E tu fai un danno Assurdo Nei confronti di quel nemico Ragazzi Capite che se lo metti In un team Con New V-Let Posso sostituire Benissimo caso Oppure posso fare un team Sia con New V-Let Furina Casua E lei New V-Let fa ancora più danno Ragazzi Capite E vedete Quando nel team Ci sono almeno Due elementi Di fuoco Hydro Cryo Elettro Lei in tutto questo Baffa anche Il danno di quegli elementi E dà delle passive extra A quegli elementi Ragazzi È incredibile Quindi Oltre appunto A farti fare più danno Perché diminuisce la difesa Baffa pure gli elementi E inoltre ragazzi Guardate il suo design È semplicemente Incredibile Ragazzi Adoro Il suo design Ragazzi Mamma mia E tra l'altro Vi farete che l'hanno messa In Team National Quindi perfetto La sua mount È che Magicamente Si mette i pattini E corre via Guardate che meraviglia Ragazzi Ma come si fa A non amare un personaggio Del genere Guardate Che meraviglia Guardate che stile Guarda quanto è bella Quando corre Guardala Ragazzi Ma che ve lo dico a fa Guarda che roba Hanno creato A livello di originalità È incredibile Allora voglio vedere un attimo Come funziona la sua abilità Questa è la sua ulti La ulti Non è niente di straordinario Ok L'ha messo Si eccolo Vedete il cerchietto Wow E infatti Fanno più danno Vedi se ci sto accanto Wow Vedremo questo personaggio Nel meta di Genshin Impact Penso per molto Molto tempo Perché Si prospetta Essere molto interessante L'unica mia pecca Di questo personaggio Lo dico sinceramente È Le arma Perché purtroppo Lei Vuole le spadine Sus Ragazzi Io di spadine Sus Ne ho veramente poche Ma soprattutto Che danno difesa Che non ne ho nessuna Ora che ci sto pensando Lo sai Mi sa che c'ho la spada Che avevo preparato Per Albedo Ma non ho mai trovato Albedo Che è proprio difesa Quindi la potrei dare a lei Ragazzi No attenzione Mi sono corretto Incredibile In diretta Voglio vedere un attimo Il set ovviamente Lo dovrò farmare Il set nuovo Che come vedete Aumenta Quando triggeri La Night Burst Quindi l'abilità Di personaggi di Natal Aumenta l'Elemental Energy E poi A 4 pezzi Aumenta Altro buff Al danno elementale Ragazzi Tantissima roba Dovrebbe andare forte Pure nei team giro Lei Quindi ragazzi Tanta roba Wow Adoro i suoi movement Quando attacco Guarda come salta In maniera incredibile Pazzesco Mi piace pure Come è doppiata Ok Ok Eh si Da 4.000 A 10.000 Di danno Eh si Direi che Il buff si vede E come Ok 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 Vai Ebbè 22.000 Siamo partiti Che facciamo 4.000 Direi che Come dire E tra l'altro Guardate quanto Si ricarica In fretta La sua Elemental Buster Ragazzi Assurdo Vedete il cerchietto Ragazzi Sono veramente Knife Per questo personaggio Lo dico sinceramente Se buildata bene Può dare Secondo me Dele fortissime soddisfazioni Facciamo la ultima Facciamo questa Oh yeah Bello C'è soddisfazione ragazzi Mi ero dimenticato ragazzi Che cura pure Anche un healer Ragazzi È incredibile È vero Lei cura pure Mancava solo Che mettiamo lo scudo Ragazzi Che era praticamente L'impersonaggio Più immortale del gioco Ragazzi Fatemi sapere Se sumonate Per questa meraviglia Perché Secondo me Merita tanto Ragazzi Infatti Io direi di fare Subito le summon E poi ci dedichiamo Al teatro sus Ragazzi Abbiamo come vedete 336 pull Incredibili Che appunto Vi avevo detto Che le avrete usate Proprio su questo personaggio E in futuro Su Maui Allora Mi avete detto Che dalla 5.0 Hanno aumentato Le probabilità Di avere un 50-50 O addirittura Una cosa chiamata Il soft 50-50 Insomma Sempre culo Potete vedere ragazzi Il senso è questo Non voglio neanche Vedere la cronologia Perché l'ultimo 5 stelle Che abbiamo trovato insieme È stata Clorinde Sono abbastanza convinto Perché poi abbiamo saltato La patch di Emily Abbiamo saltato La 5.0 E poi Eccoci qua Quindi sono due patch Che aspetto Quindi ragazzi 3-2-1 Prima summon Sulla nostra Bellissima Mammi leoparduna Vai Incaliber Magari la trovo Alle prime 10 No vabbè ragazzi Era troppo Lo so Lo so Ho chiesto troppo Tra l'altro Una cosa triste Di questo panda Ragazzi È che i 4 stelle Fanno tutti cagare E gli altri Chi sono Tra l'altro Neanche io Visti Scusatemi Cioè Ah con lei Con lei non è male E la piccoletta Non mi ricordo il nome Ragazzi Perdonatemi Quella elettro lì Non è granché Quindi diciamo Che a livello di 4 stelle Ragazzi È pessimo Questo banner L'hanno fatto apposta Perché tutti avrebbero Summato per un personaggio Super forte E i 4 stelle Non li avrebbero manco visti Seconda pool Per noi da 10 Tra l'altro Vi ricordo Che c'è sempre La possibilità Che perdo il 50-50 Ah ragazzi Un'altra Candice Ragazzi Arriveremo a C6 Candice Terza pool da 10 Vai Xylonen Vieni incredibile a casa Mazzesco assurdo E qua no Facciamo uno skip Un'altra Candice Ragazzi Faccio la battuta Veramente Arriviamo a C6 Candice Non so neanche che fa C6 Candice Mi sa che ne dovrò fare altre 2 Per arrivare al 50% Ragazzi Vabbè dai Ce ne avevo 336 Dai Non mi devo abbattere Ragazzi Concentrazione Questa è la quarta Pool da 10 Concentriamoci Xylonen Vieni a casa Incredibile Xylonen Vieni a casa Incredibile Leopardo Niente Ragazzi Scommettiamo un'altra Candice Ah no Vabbè Uno Stringless Che non fa mai male Vabbè Amici Ci siamo quasi Siamo a 50 Mi sa Quinta Pool da 10 Ragazzi Siete pronti? Uuu Vieni a casa Incredibile Ragazzi Quanto si soffre In queste summon Incredibile Va bene Ero proprio a 0 Di Piti Ragazzi Ma proprio a 0 0 Ragazzi Sono stato Fortunato Guarda Lecchino E Cloride 3 2 1 Xylonen Vieni a casa Incredibile Oggi ragazzi Niente Niente ragazzi Me la sta facendo pagare Dai Sei serio? Ci facciamo 6 singole Così arriviamo da 2,73 A 2,70 Magari la troviamo In queste 6 singole Skip Un'altra con lei Non avevo dubbi Grazie Gioco Incredibile Ce l'abbiamo altra Le 5 Vai Niente Sapete ragazzi Il colmo quale sarà? Se perdo pure il 50-50 Ho visto ragazzi Dei video Di quelli che hanno Summato per Mualani Che l'hanno trovato Dopo 10 pull Ragazzi Io non ho fatto 60 E non ho trovato niente Io non vorrei scendere Sotto le 2,40 Per questo personaggio Per quanto sia rotto Però dai Una soddisfazione Fammi trovare Una povera di Silone Incredibile Ragazzi Questo mi sa Il 50-50 Me lo sono meritato Va bene Perso il 50-50 Per Mola Va bene Ok Sono proprio felice Amici Sono partito da 336 Ragazzi Siamo sulle 70-80 pull Vabbè Adesso sappiamo Che la prossima 5 stelle È garantito Ci sta Ogni tanto Si è fortunati Sono stato fortunato Parlecchino Con Chlorine E sono sfigato Con Xilone Era palese Ragazzi Vai Ormai non ce neanche più hype 2,50 Niente Forza ragazzi La troviamo Abbiamo trovato una copia Della piccoletta Che non fa mai male Ragazzi Me la stanno a far sudare Una copia Ragazzi Due candies In un pacco solo Ho fatto la battuta Che volevo tenere Almeno un centinaio Per me Ma Wicam Mi sa che scendiamo Sotto le 200 Mi sa Ragazzi Devo arrivare a 100 De Pili Per forza Una botta De fortuna Niente Ragazzi Che schifo Che brutta E ste SAMB Ragazzi Terrificanti Ma fai trovare Adesso Una Xilone Niente Amici Mi auguro Di essere stati Infortunati Di me Queste sono Tra i peggiori SAMB Che ho fatto Nell'ultimo Mesi Se non Nell'ultimo Anno Ragazzi Non me la vuole dare Ragazzi Da 326 A 200 Neanche una copia Com'è che hanno messo 50-50 Ragazzi Ma è scandaloso 13 pun Neanche una copia Xilone Sei serio Dai Una copia Mamma mia Che fatica Mamma mia Che incubo Ragazzi Ste SAMB Mamma mia Ero partito A 326 Sono arrivato A 190 Ragazzi Mamma mia Vabbè C'ho una patch Di mezzo Di skip Ragazzi Vabbè Dovrei tornare Almeno Per dei 250 Per Mawika Spero di essere Fortunato Per l'esammon Di Mawika Ragazzi Per curiosità Voglio vedere Quante costellazioni Ho trovato Di questi personaggi Assolutamente Mediocri Abbiamo lei Al C6 Fa un pochino Più di danno Dentro Niente di straordinario Poi abbiamo A Dori Scusate Si chiamava A Dori Due copie Di Dori Quindi vabbè Questo aumenta La sua Elemental Burst Credo The character Connected to Ginny Will Obtende Forum In buff Aumenta L'Energy Richard E le cure Vabbè Niente di straordinario Ripeto Chi è che la usa Come healer Lei Non credo Quattimente Nessuno Poi abbiamo Trovato Una Mona Che L'incostro di arciana C'ho Mona Bella Mona C5 A C6 Aumenta Il danno Dell'attacco Caricato Vabbè Un giorno Troveremo anche Mona C6 A sto punto Abbiamo trovato Lei A C1 Che fa Lei A C1 Ah ok In base ai cristalli Che fa Aumenta L'Energy Richard Vabbè Non è male Candice A C6 Ah è per farla Main DPS Praticamente Se hai il potere Dell'Elemental Skill Aumenta Il danno In base Alle sue HP E ho l'infusione Hydro Non lo sapevo Vabbè A parte che Non la uso mai Candice Praticamente È come Benny Benny ti fa L'infusione Fuoco Alla ti fa L'infusione Hydro Che potrebbe Essere utile In determinati Casi Ma in altri Boh Ragazzi Non lo so Allora Compriamoci un attimo Qualche salmon A questo punto Ragazzi Me lo recupero un po' Perché Compriamoci 5 di queste Posso comprare un po' di queste 15 Ah beh Ce ne possiamo comprare 15 ragazzi GG per noi L'abbiamo recuperata ai 20 Quindi siamo tornati a 210 Quindi alla fine Xilonen c'è costata 11 pull Da 10 Abbiamo perso 50-50 Abbiamo trovato lei Vabbè Ci sta ragazzi Dai Con calma Me la builderò Incredibile Adesso ragazzi Dedichiamoci al teatrino sus Dove sfocherò La mia frustrazione Per queste salmon Che non sono andate benissimo Cioè sono andate bene Però ragazzi Mi sono postate Un sacco di Sferette Che io sudo Incredibile Per farmarle Ragazzi E poi il gioco Come dire Me le fa Sprecare Incredibile Quali sono gli elementi Di questa season Tra l'altro Fuoco Elettro E Gio Ok Mi sa che ce ne abbiamo Un po' di personaggi Devo buildarne un po' Però Ma li proviamo tutti Performance passate Io ragazzi Punto Ovviamente a fare almeno 6 stelline Tra virgolette Che è il mio record Tra virgolette Che voglio portare avanti Come vedete L'altra volta Non abbiamo fatto La versione massima Ragazzi Perché sinceramente Per 150 gemme Fare la modalità Super difficile Mi tengo l'abis Come difficoltà vera E questo lo faccio Un pochino più Per essere un po' più chill Nel momento ragazzi Preferisco avere l'abis Come difficoltà E questo farlo un pochino Più per divertimento ragazzi Quindi la difficoltà massima Del teatro Per 100 gemme Non mi interessa Incredibile Sinceramente Mi mancano alcuni personaggi Da portare su ragazzi Sapete che io con Gashin Devo recuperare un sacco di cose Infatti Mi mancano dei personaggi Questa si chiama La Visionary Mode Vabbè Facciamo la difficoltà hard Allora Sicuramente mi prendo Deia Sicuramente mi prendo lei Sicuramente mi prendo La Kaching Sua La Fish Mi prendo la mia Mi prendo la sua Kyori Mi prendo la sua Ningguong Allora ragazzi Abbiamo preparato I nostri personaggi incredibili Io li ho buildati tutti Con i talismani sus Direi di andare ragazzi Go to the challenge Ripeto Io punto a fare Almeno 6 stelline ragazzi Come l'altra volta Ok Prendiamoci il Mystery Cake Free Sperando che non sia un debuff Prendiamoci questo Companion Pyro Vogliamo usarne Vabbè Se prendiamoci un Pyro Amico Qua mi sa che mi devo prendere Facciamo Shangri Bene Ce lo teniamo Per più avanti Allora Che battaglia abbiamo Contro questi tre Oppure contro Facciamo i Ruingard grossi Ok 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 Vai Deia Ok 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 Mi sa che ce l'abbiamo Guarda alla grande Questo non era difficile Per niente Vabbè Questo ragazzi Era proprio facilissimo Va benissimo Andiamo avanti Io mi prenderei Arlecchino Utao Non ci serve per adesso Companion Electro Vediamo chi troviamo Cookie Vediamoci Vabbè Facciamo sempre i Mega Ok Ok Vai ulti You're dead meat You're dead meat Intanto ho visto un meme bellissimo Che mi ha fatto ridere Di quelli che pensano Che Xilonell sia l'aggressione Più forte di Deia Che mi ha fatto un po' Tristezza Più dire come quella Ok 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 Mi sa che ce la facciamo Sì È la grande GG Benny o Yelan Yelan Benny ci ricapiterà più avanti Su dai Allora John Glee me lo vorrei tenere Per la fine Quindi andrei su Yai Boss Ah il tizio d'acqua Ah amici Vabbè il tizio d'acqua Non è un problema Su dai Ho esagerato Non dovevo mettere Arlecchino Vuoi immaginare Che basta Anzare Ok Ok Stop right there Ok Molto bene Utao o 20 Utao Ok abbiamo preso un buff Che ci ha ridato Deia Molto utile Io andrei sempre con i Mega Che facciamo prima E le streghe Che cominciano a evocare Quei minion Che sono fastidiosissimi Ragazzi Quattro utile Quattro utile Reveal Right here Right now Hi Globsoff Come is in Midnight Senka Time to go Right here Right here That's one Don't survive Behold Emerge Right here Right now Right now Ha Hi 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 Bimarial decree Ha Chinty Ha You asked for it Ok Let's get it on As you wish Make your life God's over Ok Show them Right here Right now Right now Gah Emerge Aw Gripi Gah 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 Right now Right here Right here Globsoff Vai Deia Incredibile Deia Ok Ok Tradimento ragazzi Quel ragnetto mi stava distruggendo tutto Va bene Andiamo avanti Raiden o Beidou Raiden Beidou Non so quanto sarà utile in futuro Facciamo sempre i golem ragazzi I Rift Town ragazzi Sapete quanto io odio il nemico Ok Ok Glenda Oh god I gotta Okay You don't have your weapons You don't have your weapons I You won't go ok 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 stop right there ok 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 ho preso il massimo delle stelle pure qua dai la tratta mi ha lagato tantissimo meno male che sto giro non me lagga riesco a fare anche delle mosse migliori incredibile ok questo 4 stelle ragazzi non l'ho mai trovato speri che bulletin è mai trovato e ne ho fatte di summon eh perchè lei buffa le reazioni elettrofuoco che non è male ma non l'ho mai trovata ci siamo presi bait facciamone ancora ragazzi abbiamo bisogno di personaggi assolutamente in aria assolutamente io Emilia e ora possiamo fare il boss allora questo boss qui è debole al Geo andiamoci cattivi andiamo qua e 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 peccato questo non ci riusciamo a far massimo di stelle ragazzi purtroppo e 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 per poco ragazzi vabbè non ci sta e e e e e ragazzi non ci siamo riusciti a fare stelle pure a questa vabbè ci sta non potevo prendere di fare tutte le stelle su va bene così ne abbiamo fatti più del solito ragazzi o ci ha detto fortuna con gli elementi probabilmente si va bene va bene ci sta non posso lamentarmi va bene una cavolata rispetto a quello dell'abbis ok ok va bene e decisamente più facile amici eh dell'abbis ragazzi mi aveva fatto un culo questo se non schifavi queste ondate che faceva dell'abbis ti shottava i personaggi ragazzi una cosa senza senso eccomo eccomo vai Raiden distruggila quant'è bella Raiden quando mi critta quel centocinquantamila così che non è niente rispetto al Raiden fortissime però sono centocinquantamila fatti col cuore abbiamo fatto più stelle del solito a questo teatro sus che io ripeto ragazzi secondo me come idea ci sta se lo volete fare hardcore oppure questo vi dovete fare la modalità quella super difficile già ho la mia streak nell'abbis che va avanti da anni e mi impegno lì tutto il mio focus incredibile questo è più chill ragazzi comunque vedete centocinquantamila di Raiden ne abbiamo fatte sette va bene dai prendiamo le gemmine ragazzi che hanno letteralmente bisogno visto quante ne ho usate per prendere la nostra bellissima leopardona 620 gemmine buttavia ragazzi con questa vittoria incredibile direi che questa puntata di Kenshin Impact può finire qua noi ci ritroviamo a questo punto direttamente nella patch 5.2 più che altro perché mi ritengo molto soddisfatto di essere riuscito a tornare in regime che esce una patch di una delle serie gacha che porto sul canale e riesco a portarvi il video puntuale infatti l'unico che vedrete probabilmente prima delle patch nuove sarà Zelda Zone Zero dove proveremo Barnis mi pare che si chiama il personaggio che usa il lanciafiamme in maniera molto molto figa così almeno ho tempo di fare un sacco di video ragazzi ovviamente di fare ci vuole veramente un sacco di tempo godoso incredibile ragazzi tra l'altro ho notato una cosa che mi sta dando dei problemi l'audio io spero che questo video si sia sentito bene perché sto vedendo che ci sono delle luci che non dovevano essere accese e me ne sono accorto alla fine perché mi sono appena reso conto che si sente più l'audio del gioco che la mia voce sus ragazzi vabbè speriamo bene ragazzi che cosa sono voi e ci vediamo al prossimo episodio di Gashini Pazzesca Assurdo wow!